Insegnare ai bambini la storia, la cultura del territorio, l'arte, attraverso il gioco. Il progetto Octopus, condotto da Carlo Bartiromo, presidente del movimento Pro Infanzia per Napoli, coinvolge i bambini della scuola elementare e media in un percorso pedagogico che utilizza le immagini e l'interpretazione analogica per favorire l'apprendimento. Un saggio di questo progetto didattico è stato presentato in sala giunta a Palazzo San Giacomo, coi giovani allievi delle scuole Don Milani-Aliperti di Marigliano, dell'Andrea Doria di Forigrotta e della Paesiello dei quartieri spagnoli. Una metodologia ludica, la metodologia della risoluzione del rebus, delle chiavi che risolvono problemi per far scoprire ai bambini le loro origini, i loro territori e soprattutto il potenziale del patrimonio artistico e culturale di cui entrambi i territori, Napoli e Marigliano, godono. Un progetto a cui va tutto il nostro applauso come amministrazione, che cerchiamo di essere sempre vicini alla scuola, ma come diceva l'assessore del Comune di Napoli, ben venga questa iniziativa perché appunto sono i bambini ad essere protagonisti. Fra le narrazioni proposte dai bambini, la scoperta di un villaggio di pescatori dell'età del bronzo situato a Napoli fra lo Stadio San Paolo e la Facoltà di Ingegneria e la storia millenaria del Palazzo Ducale di Marigliano.